A tutti cari amici di Top Planet e Top Land un saluto al carissimo amico Marcello Chirico e a Deleu Petrelli Cosa dire? Sono felicissimo, la Juventus ha stravinto e strameritato contro il Genova Ha giocato una grandissima partita, immensi, tantissimi, da Bonucci a Manzucic, allo stesso Di Bala Ci hanno giocato una partita incredibile, siamo veramente in forma e ce la possiamo giocare veramente al 100% in Champions Sono davvero, davvero felicissimo per questa Juventus, soprattutto che è arrivata nel momento cruciale della stagione con questo stato di forma Ragazzi, forza Juventus davvero Permettetemi, per favore, di saltare su tutto un altro piano di discorso dovuto a certi discorsi che ho visto sui forum E soprattutto alle ultime dichiarazioni fatte dall'ex PM di Torino, Guariniello Ma prima di parlare del dottor Guariniello voglio citare, visto che io sono un signor nessuno ed è giusto così Però mi informo, io cito l'ANAI, l'Associazione Nazionale Avvocati Italiani Perché intanto bisogna ben specificare cosa sia la prescrizione La prescrizione Capita sovente, soprattutto ai potenti incappati in un processo, di salutare la sentenza che certifica la prescrizione come se fosse un'assoluzione Ma non è così, non esattamente Se il giudice ritiene che al momento dell'intervenuta prescrizione il reato non sia stato accertato È obbligato a pronunciarsi per l'assoluzione Diversamente se sussiste il sospetto di colpevolezza o magari la prova piena Deve dichiarare l'avvenuta prescrizione Quindi abbiamo dedotto che prescritto non vuol dire assolto, anzi tutt'altro Adesso mi collego alle dichiarazioni del dottor Guariniello Che non perde mai occasione per tacere E prendo io, ripeto, i fatti reali e giudiziari accaduti Bisogna precisare che sul caso doping la Juventus in primo grado è stata condannata Ma in appello, il 14 dicembre 2005, la Juventus viene assolta in formula piena Perché il fatto non sussiste Cioè la Juventus non ha mai adoperato alcun genere di doping Soprattutto quello relativo alle sostanze dopanti, epo e anabolizzanti Ma nel 2007 la Cassazione accetta in parte L'impugnazione della sentenza da parte del Tribunale di Torino Perché? Mentre da una parte la Cassazione conferma Che alla Juventus non è stato mai fatto alcun tipo di utilizzo di sostanze dopanti illecite Quindi anabolizzanti ed epo Ma accetta la proposta e il ricorso dei magistrati torinesi Che verteva sull'applicabilità della legge 401 dell'89 Sulla frode sportiva Udite udite attentamente Anche nei casi di somministrazione illecita di sostanze non dopanti E non compresa nella lista di quelle proibite Cioè siamo qui alla magia ragazzi Siamo alla magia Quindi come avevo spiegato anche io nei miei tweet Nelle mie spiegazioni Quello che dicevo Che la Juventus è stata assolta in formula piena Per ciò che concerne le sostanze dopanti Ed è andata in prescrizione per ciò che concerne le sostanze illecite E' tutto vero Certificato E che si può andare tranquillamente a verificare Quindi adesso Io voglio dire agli amici interisti Che ho visto sollazzarsi in questi giorni Con queste dichiarazioni guerriniello Di stare ben calmi E pensare alla loro prescrizione Che è molto ben più grave Che parla di illecito sportivo Più grave di quello della Juventus Loro dicono che non sono stati mai giudicati Però A parte che la prescrizione c'è stata Per quello che riguarda la giustizia sportiva Voglio che ascoltiate con attenzione Le motivazioni di sentenza del giudice Maggi Relativo al caso diffamazione Di moci nei confronti di Giacinto Facchetti Leggo le motivazioni testuali di sentenza Del giudice Maggi Le telefonate tra Giacinto Facchetti Alcuni arbitri Costituiscono un elemento importante Per qualificare una sorta di intervento di lobbying Da parte dell'allora presidente dell'Inter Nei confronti della classe arbitrale E sono significative di un rapporto preferenziale Con vette non propriamente commendevoli Continuano le motivazioni della sentenza Proconunciata dal dottor Maggi Le affermazioni del moci sul facchetti Giacinto Contenevano con certezza una buona veridicità Non vi è dubbio infatti come scrive il magistrato Che le intercettazioni telefoniche Prodotte dalla difesa di Moggi E recuperate nota bene Dal processo di Napoli Danno conto di un rapporto preferenziale Che il facchetti manteneva con i designatori arbitrali all'epoca Rapporto che è stato oggetto della richiesta di archiviazione Del procuratore federale dei palazzi Che stigmatizzò duramente tali evenienze probatorie Che non sono sfociate in un provvedimento disciplinare Per il solo fatto del decorso del termine prescrizionale Ma di che stiamo parlando? Cioè un giudice ha detto Che l'Inter non ha avuto L'ammenda relativo a Calciocoli Solo perché era andato in prescrizione Per il lecito sportivo Io a questo punto voglio tacere E vi saluto e vi lascio a voi commentare Dicendo che sono pronto a confrontarmi con chiunque Da tutti i tifosi interisti Illustri e non A partire da Gianluca Rossi Da Guido Rossi Da signor Furini Da Moratti Da Toir Dai giudici Dalla Cassazione Nel dire che quello che ho detto non è verità Vi saluto E a presto